Ben trovati amici di Media24. La giunta regionale del Friuli Venezia Giulia presieduta da Massimiliano Federica è in procinto di approvare una riforma legislativa per quanto riguarda le province. Come sapete il Friuli Venezia Giulia all'epoca del governo Seracchiani aveva abolito questi enti intermedi ma ora la giunta, il governo di centrodestra presieduto da Federica le vuole reintredurre e su questo tema abbiamo fatto un nostro commento. Molti di voi sapranno che il Friuli Venezia Giulia è l'unica regione in Italia ad aver eliminato le province. Durante il governo Renzi venne introdotta una riforma costituzionale che modificò la natura giuridica delle province trasformandole in enti di secondo grado. In soldoni significa che da enti eletti direttamente dai cittadini le province sono state trasformate in enti eletti dai comuni che ne fanno parte. Ma in Friuli Venezia Giulia che in ragione della sua specialità ha potestà primaria in materia di ordinamento dei poteri locali si è voluto fare di più. Durante il governo regionale presieduto da Deborah Seracchiani la maggioranza di allora di centrosinistra propose una legge per l'abolizione delle province e il provvedimento fu approvato a larghissima maggioranza con il voto favorevole anche del centrodestra. Al posto delle province i legislatori regionali si inventarono le UTI, Unioni Territoriali Intercomunali, sostanzialmente delle mini province comprendenti aggregati di più comuni per la gestione di servizi di natura sovracomunale. Alle quattro vecchie province si sono sostituite 18 mini province con un risultato a dir poco disastroso. Le aggregazioni comunali hanno prodotto una frammentazione amministrativa e territoriale ancora più grave di quella preesistente e la regione si è caricata di incombenze gestionali che non è in grado di esercitare in modo efficace perché non è il suo mestiere. A conti fatti una riforma che ha peggiorato la situazione anziché migliorarla. Ma in quegli anni la foga riformista del giovane Renzi, finita poi in un disastro nel referendum costituzionale del 2016, contagiò così tanto la giovane presidente della regione Friuli di Venezia Giulia che volle mostrarsi più realista del re, dando luogo ad una riforma che non ha riformato nulla, che ha ulteriormente incentivato un centralismo regionale peggiore di un ministero romano e che non ha nemmeno prodotto quei risparmi economici che venivano promessi. Ora, la Giunta Fedriga intende cancellare quella legge che anche il centrodestra aveva quel tempo votato per ricostituire le vecchie province. Forse ha sbagliato i tempi perché leggi di questa natura non vengono votate alla fine di una legislatura, ma all'inizio, quando c'è tutto il tempo per attuarle concretamente. Ma già si profilano le polemiche di coloro che gridano al colpo di mano per una marcia indietro che viene letta come un nuovo poltronificio. Se le province dovessero essere ricostituite esattamente come lo erano prima, sarebbe un errore. Ma se la loro reintroduzione fosse accompagnata da una nuova rimodulazione dei poteri locali in cui le nuove province fossero arricchite attraverso lo strumento della delega di funzioni amministrative ora in capo alla Regione, allora il disegno riformatore assumerebbe dei connotati diversi. La Regione dovrebbe limitarsi alla legiferazione, all'alta programmazione e al controllo, ma tutte le incombenze gestionali e amministrative di natura sovracomunale dovrebbero essere trasferite a livello intermedio. In questo modo le province, oltre alle competenze proprie riconosciute dalla legge, potrebbero trasformarsi sostanzialmente in uffici decentrati della Regione, ma con poteri di autonomia riconosciuti, in grado di operare con maggiore efficacia e con una migliore interlocuzione con i territori di competenza. Non sempre le ciambelle riescono col buco. Una riforma che si risolvesse in un ritorno indietro, senza introdurre elementi di novità migliorativi, sarebbe una semplice retromarcia. Ma le leggi si fanno per andare avanti, non per tornare al punto di partenza. Nell'ambito della prima missione del progetto europeo DEFCO a Veggianeda, in Argentina, la delegazione italiana guidata dal vice sindaco del comune di Pordenone, Emanuele Loperfido, e composta dal sindaco di Roveredo Impiano, Paolo Nadal, e dal sindaco di Valdobiadene, Luciano Fregonese, ha incontrato l'ambasciatore italiano a Buenos Aires, Fabrizio Lucentini. La delegazione ha presentato all'ambasciatore Lucentini i progetti realizzati assieme al comune di Veggianeda, ponendo particolare attenzione a quello scambio di buone pratiche per la gestione dei servizi sociali in modo associato, che proprio come avviene in Friuli Venezia Giulia, ne può aumentare l'efficienza e l'economicità. E il Consiglio regionale ha bocciato per la terza volta l'introduzione della doppia preferenza di genere nella legge elettorale del Friuli Venezia Giulia. Le associazioni che da tempo si battono per il rispetto della legge nazionale in materia e per il rispetto dei diritti delle donne condannano senza sconti questa decisione. Stanno valutando l'impugnazione delle prossime elezioni regionali che si svolgeranno ancora una volta in violazione di norme costituzionali ed ordinarie. Palpabile l'imbarazzo che trappelava nei corridoi, affermano le associazioni firmatari del documento, con molti consiglieri, compreso il Presidente Zanin, che il 7 marzo del 2021 aveva garantito l'approvazione della doppia preferenza di genere, ma che nulla hanno potuto contro ordini superiori. Il Consiglio Comunale di Roveredo in Piano il prossimo lunedì 28 novembre si tornerà a riunire all'ordine del giorno alcune interrogazioni presentate dal gruppo di minoranza civica Roveredo riguardanti la politica energetica, la crisi delle attività commerciali, artigianali ed industriali, la raccolta dei rifiuti urbani e il nuovo inceneritore di rifiuti regionale. Oggi, in giunta, abbiamo approvato l'aggiornamento del quadro esecutivo del progetto definitivo relativo all'opera di adeguamento strutturale della copertura del Parco Ardito Desio. Lo annuncia il Vice Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Udine, Loris Michelini. Si è trattato, precisa Michelini, di una modifica che si è resa necessaria non solo per fronteggiare l'aumento dei prezzi che, per vari fattori di natura geopolitica e finanziaria, si è verificato nel corso di quest'anno, ma anche per recepire il nuovo preziario regionale dei lavori pubblici. Il costo dell'opera è così aumentato di 180 mila euro, passando dall'iniziale cifra di 450 mila a 630 mila euro. Oltre alle sedie rosse posizionate nella struttura dell'azienda 4 del Veneto orientale e la fissione degli adesivi Tu sai quanto vali, guardati, sugli specchi di attività pubbliche e private, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, è stata organizzata una conferenza stampa allo scopo di fare il punto della situazione nel territorio del Veneto orientale. La conferenza stampa si svolgerà domani, venerdì 25 novembre alle ore 11, presso la direzione medica dell'ospedale di Portogruaro. E oggi, alle ore 18, presso l'auditorium della regione, in largo San Giorgio 2 a Pordenone, è stato presentato il libro Epistolario dal fronte russo, dono d'amore di un alpino della Giulia che non è più tornato, scritto a quattro mani da Giulia, figlia del protagonista Romolo Marchi e da suo figlio Andrea Cavicchi. Romolo Marchi nacque ad Aviano nel 1912, ultimo di quattro fratelli, completò gli studi di ragioneria a Udine. Nel secondo conflitto mondiale fu inviato in Russia con il grado di sergente dell'ottavo reggimento alpini, battaglione Gemona. Il 26 gennaio del 43, pur malato e ferito, fu tra coloro che a Nikolaevka aprirono un varco agli italiani nella ritirata di Russia e in tale impresa perse la vita. L'epistorario raccoglie 137 lettere, cartoline e messaggi inviati da Romolo alla moglie Lisetta nel periodo dall'8 luglio, quando era ancora in Italia, all'8 gennaio del 1943. Conegliano e Portogruaro rendono omaggio alla fotografia d'autore con due mostre importanti che raccontano la storia e i costumi della società dal dopoguerra ad oggi. A Conegliano, a Palazzo Sarcinelli, oltre 170 scatti di Ron Galella, il più famoso paparazzo della storia della fotografia, scomparso il 30 aprile scorso all'età di 91 anni. A Portogruaro, invece, presso il settecentesco Palazzo Vescovile, l'Italia di Magnum, da Robert Capa a Paolo Pellegrin. Fino al 5 di febbraio 2023 si narrano gli ultimi 70 anni di storia italiana. Il personaggio più rappresentativo del fumetto incontra i visitatori al PAF con la mostra nel segno di Tex del noto fumettista pordenonese Emanuele Barison, una selezione di 32 tavole originali tratte dall'ultima sua fatica uscita nelle edicole il racconto Il Sicario ed evocative illustrazioni libere a colori. L'apertura dell'esposizione a ingresso gratuito è in programma per domani, venerdì 25 novembre, a partire dalle ore 18.30. E sempre domani, venerdì 25 novembre, a partire dalle 18, nella sala corgnali della Biblioteca Civica Ioppi a Udine per il ciclo dei dialoghi in biblioteca e in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, sarà presentato il libro, edito da Gaspari, Diari dal carcere, La tilapia succhia il sangue di Ur Al-Azim di Sepidego Lian, presenta Fabrizio Foschini, curatore della traduzione del persiano e delle note, introduce Franca Rigoni di Vicino Lontano. E l'AIL sempre in prima linea con le iniziative di solidarietà. Non solo durante la campagna nazionale delle stelle di Natale, nei giorni 8, 9, 10 e 11 dicembre, nelle piazze della provincia di Pordenone si possono trovare le stelle in fiore di cioccolato, ma per il periodo natalizio saranno anche proposti, soprattutto in alcuni locali, l'innovativa statuetta di cioccolato rafficurante, un piccolo babbo di Natale. Poi alcune aziende hanno anche avanzato delle richieste all'Associazione di poter fornire loro dei pannettoni confezionati per i loro collaboratori, sempre come unico scopo solidale e raccolta di fondi, utili a finanziare le innumereboli iniziative in atto e prospettate per il futuro verso coloro che sono ammalati e per i loro familiari. E Vinicio Bisioli, nuovo allenatore del Portogruaro Calcio Femminile, classe 1960 di San Michele Tagliamento, ha alle spalle un curriculum di alto livello sia come giocatore che come allenatore al nuovo mister. Ovviamente noi auguriamo buon lavoro. Intanto le nostre ragazze sono uscite sconfitte dal campo di Bologna con un sonoro 5-0. Le immagini della partita di Gabriele Zoya con il commento di Davide Gasparotto. Nel giorno in cui il Meran fa visita al Lumezzane terzo in classifica, l'altra capolista, Illo e Bologna va al Mecchia cercando una vittoria che sarebbe la decima consecutiva e potrebbe significare vetta solitaria della classifica. L'inizio però è convincente da parte del Portogruaro. Secondo minuto, Gava tra le linee e la sua conclusione supera la traversa della porta difesa da Sassi, liberata bene da Di Lenardo. Non un minuto, calcio di punizione e defilato da parte di Gashi che va direttamente in porta. Non c'è deviazione da parte di nessuna delle Granata per quest'oggi guidate da Plett in panchina. Blocca di nuovo Sassi. Con il passare dei minuti cresce la prestazione del Bologna. Vedete questa conclusione è la prima per il Bologna seguita dalla prima conclusione in porta da parte di Gelmetti, parata da Fontana in modo provvidenziale. Seconda conclusione di Gelmetti, debole. La numero 11 però sarà una delle protagoniste del match. Grazie al suo istinto killer avrà poche occasioni ma saprà sfruttarle a dovere Gelmetti. Partita che si sblocca alla mezz'ora. Spallanzani con il pallonetto dai 10 metri circa. Palla che scavalca Fontana e termina in rete per l'1 a 0. Secondo gol in campionato per la classe 2003 Spallanzani. Passano 60 secondi. Battagliotto ruba palla a Samoa. La sua conclusione però è centrale. Non impensierisce Sassi. Vediamo qui sorpresa a Samoa dalla pressione alta di Battagliotto. Peccato per il tiro che non impensierisce il portiere. Pochi minuti e guardate che cosa si inventa Gelmetti dal nulla. Trova il gol del 2 a 0. Un lancio in profondità che viene trasformato in gol dal numero 11. Decimo gol in campionato per la classe 95. 2 a 0 per il Bologna. Avanza ancora la squadra di Mister Bragantini con l'ennesima conclusione di Gelmetti. Blocca centralmente Fontana. Ancora però lanciata in profondità la numero 11. Guardate anche qui. Traiettoria imprendibile per la seconda volta. Tocca il palo ed entra in rete. Diventa oro tutto quello che tocca Gelmetti. 3 a 0. E partita chiusa per il Bologna. Ci prova Gasci in chiusura di primo tempo dalla distanza. Palla che termina alta. Ancora al 43esimo. Un'occasione per Bonaccini che non trova la porta da breve distanza. Con le immagini di Gabriele Zoi andiamo nella ripresa. Assist della solita Gelmetti. Sciarrone salta Volpatti e trova il suo primo gol in campionato. Sciarrone che aveva segnato al Portogruaro anche l'anno scorso con una precisa punizione. Stavolta conclude un contropiede all'inizio della ripresa. Siamo all'ottavo minuto. Quindicesimo. Calcio di punizione. Calcio Belenosa che finisce direttamente in gol. Seconda rete in campionato. Seconda rete anche in questa partita per Sciarrone che dunque segna un gol olimpico nello stadio che di gol olimpici ne aveva visti diversi nelle scorse stagioni da parte del Granata. 5 a 0 per il Bologna. Il Portogruaro ci prova comunque. 21esimo. Da fuori Gasci. Il graffio della numero 10 viene respinto da Sassi. È una delle ultime occasioni. La partita da qui in poi ha poco da dire a livello tecnico. Comunque il Portogruaro prova le avanzate da calcio da fermo. Qui Desiati il suo traversone. Non ci arriva Battaglotto. Finisce così 5 a 0. Il Bologna è il primo in classifica con pieno merito. Un saluto da Lede Gasparotti. E con questo è davvero tutto cari amici di Media24. Ora vi lascio alle previsioni del tempo e poi alla rubrica momenti di sport e società a cura di Stefano Boscariol e alle 21.30 la sintesi della partita di calcio femminile tra il Bologna e il Portogruaro e a seguire il film storico All'ombra delle Aquile. Grazie ancora della vostra attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.